it's your fucking podcast bella raga wey ma ciao a tutti ed eccoci qui ciao cari bentornati siamo tornati qui al medusa podcast e la mia luce mi raga finalmente it was 84 years sono passati 84 anni dall'ultima volta abbiamo fatto una live su medusa podcast ed eccoci qua è vero è vero perché noi sappiamo qualcosa a raccontare lo raccontiamo raga cavolo ce ne frega comunque come state belli tutto bene non fate caso a me ma come fai parte del podcast sì no sto sistemando le luci dietro di me perché ci sta raga problemi tecnici con le luci infatti c'ho il lampione qui dietro perché dovrei stare così per non dare problemi di luce senza gli occhiali perché guardate che riflessiamo tutti così raga mi sto così perché perfetto no comunque raga stasera abbiamo deciso finalmente e dico finalmente gli elusif di fare un live e parleremo un botto di arte musica e poi cos'altro ha il loro impatto all'interno della società attuale che già è diverso raga una valenza completamente diversa quindi comunque parleremo di questo prego e comunque questa è la mia questa è la mia prima live sul medusa con l'hd è vero siamo pure in hd non siamo in hd nel senso prima avevo sempre la webcam che faceva schifo invece finalmente sono in hd io invece c'ho una luce sola solitamente accendo tipo i lampioni quando faccio le mie live però stasera no meglio così più luce dietro e va bene così comunque prego che c'è no nulla l'ho messa così la copertina del video sarò io così a proposito di arte eccola rendiamo artistica la copertina aspetta 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 c'è un quadro che è messo così allora c'è la statua del pensatore che è così secondo me sarà qualche immacolata concezione sicuro sicuro che tra l'altro dolore comunque tanto dolore raga sì se ti ricordi nel secondo film in una notte al museo dove loro vanno al museo di washington dc c'è la statua del pensatore messa così e c'è lui non mi ricordo come si chiama l'attore robbie williams no robbie williams no l'altro cosa ho capito ho capito certo e vabbè zulander esatto vabbè l'attore di zulander che vada perché aveva bisogno di una mano per che doveva fare una cosa doveva risolvere un enigma scientifico e fa il pensatore dovrebbe saperle questa cosa va la statua del pensatore gli fa l'enigma e fa lo sai risolvere quello e lui si mette a pensare e fa così sto pensando sto pensando sto pensando è un pensatore che deve fare nella vita deve pensare e deve poter lucubrare sì dunque ci puoi invece spiegare puoi spiegare alla gente perché noi abbiamo iniziato questo podcast stasera con la musica arte tutta sta roba qua le tematiche la roba delle abbiamo sentito abbiamo sentito cesarei cremonini lucubrare su queste cose abbiamo detto cavolo ma c'ha ragione facciamola anche possiamo anche lucubrare noi possiamo fare di peggio addirittura abbiamo pensato in due sì come un accordo no vabbè raga più che altro stasera abbiamo iniziato questa live per parlare no perfetto perfetto bene così stavi facendo chi è aspetta aspetta cosa alexander cabanel esatto ok ok perfetto a proposito di arte tra parentesi anche la copertina di salmo questa vedi quando l'arte viene citata nella musica con la musica ma infatti raga salmo in realtà cioè veramente io mi sono messo a ascoltare le canzoni di salmo perché prima di tutto avevo visto quella copertina diceva aspetta ma porca miseria ma quello là è il dipinto di alexander cabanel what e quindi appunto come l'arte si unisce alla musica alla stasera appunto a parte che qualche giorno fa abbiamo visto io e lucif insieme l'intervista appunto a cesare cremonini che era era saltato fuori nel tubo e diciamo che appunto ci siamo resi conto di quante responsabilità può avere un artista in questo caso il musicista ma anche gli influencer stessi devono poter avere una vastità di roba di veramente veramente soprattutto tra l'altro si parla del fatto secondo me di rischiare tantissimo un musicista tanto quanto un artista e anche un creator ovviamente perché i creator sono degli artisti a tutti gli effetti sono gli artisti dei giorni nostri perché noi intanto precisiamo una cosa perché ci sono tanti più artisti che io da un annetto che ne vedo saltare fuori proprio raga fiori durante il matrimonio durante un matrimonio li vedo saltare fuori perché noi viviamo esattamente nell'era digitale aspetta noi viviamo esattamente all'interno di un contesto storico che se cercate su wikipedia c'è scritto rivoluzione digitale è vero se lo cerchi lo puoi trovare noi viviamo appunto in questo contesto storico super innovativo what the fuck viviamo i nuovi anni venti raga non c'è niente da fare così sono gli anni venti ovviamente non stiamo non ci mettiamo a copiare nessuno ma non sto copiando ho citato il povero federico che si trova rinchiuso in casa poco fa su instagram si lamentava di essere rinchiuso si lamentava della ferragni che si lamentava a sua volta di essere chiuso in casa si lamentava che schifo indignati tutti quanti indignati proprio no no c'era da un lato la ferragni che si lamentava appunto che passerà le ultime vacanze in casa cioè si lamentava fino a una certa nel senso che non può vedere i parenti volendo e nel frattempo c'era fede se faceva sì che è peccato che siamo a casa tipo felicissimo di essere a casa un po meno di quello che gli è successo no ci sta ci sta senza vabbè situazione che dobbiamo fare non possiamo andarci a buttare fuori fin quando raga tra poco vedremo tipo le persone che diventano licantropi col coronavirus veramente tra poco la gente inizierà mutare cioè vedete pure io sto mutando mi sta crescendo la barba che tra l'altro ha proposito di musica o aveva pure pubblicato che è il suo album quello disumano che se tu lo vai a guardare l'album non dico l'ascoltare proprio guardare le immagini e tutto ha molti riferimenti all'arte e critica la società ovviamente ha preso il disco di platino vabbè ma diciamo che è quasi di default che fede possa prendere il disco di platio si è sposato con la regina degli influencer qualche modo avrà veicolato la comunicazione le cose ti ricordi che ho un follower nuovo grazie per il follow bella raga grazie 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 lo sgozza fiori che nome particolare brutale ci piacere perché vuoi sgozzare i fiori no ora mi sorge questa domanda spontanea è giusto fare questo questo è una roba tanto metal comunque sei il benvenuto nel team no no i fiorellini i fiorellini sono belli l'unica muse che mi ha trasmesso qualcosa sono in nascendo ascoltando le mie quasi note voglia di arruolarmi non vedo la chat quindi puoi leggere l'altavoce no non posso finire la frase perfetto non posso finire la frase fidati ok perfetto comunque raga da che mondo è mondo la musica e l'arte camminano a braccetto e comunque voleva creare un nome tragico e delicato allo stesso tempo un po come l'arte che vuole creare cose tragiche e delicata allo stesso tempo ma donna quanti quadri mi vengono in mente che sono di una delicatezza unica nel modo di quello che rappresentano ma hanno una tragica dietro tremenda la maggior parte dei quadri espressionismi e impressionismi in poche parole anche quelli di van gogh per citare proprio le cose più popolari e vabbè ci sta dai ai tempi dei tempi ma comunque dal punto di vista appunto dell'arte di base come dicevo prima musica e arte vanno sempre di pari passo da tutta la vita breccetto cioè musica musica e fotografia musica e arte in generale musica e qualche altra cosa qui diciamo che l'arte è sempre stata qualcosa che ha accompagnato la musica anzi non si è mai voluto porre alla musica e la serie o raga questo qua un quadro è mio fatto io è fighissimo non ho quello là del cd mi fa schifo no no anzi no vabbè perché ci sono stati tizi se ti ricordi ci sono stati cantanti o band che hanno utilizzato veri e propri quadri non solo hanno preso riferimento hanno commissionato quadri per le loro copertine guarda una delle band più vicine più vicine nel senso che comunque ho potuto ascoltare le canzoni e l'album è di qualche anno fa qualche anno fa intendo due anni fa esatti i berry tomorrow che avevano commissionato il disegno del cd ad un artista non mi ricordo il nome però ho capito chi è un artista russo dove sei andato no a prendere un cd ma perché non puoi parlare allora aspetta aspetta qua scrivono e immagina ragazza un ragazzo nudi uno che spezza il cuore dell'altro infine nel petto non posso finire di leggere che sennò twitch si incavola però ho capito la metafora sia una cosa delicata ma allo stesso tempo brutale ho capito il concetto e nel mondo dell'arte è pieno di questi tipi di allora una cosa che mi ha fatto venire in mente è una performance di marina abramovic che è molto simile che è basata sulla brutalità e la delicatezza dove c'è il compagno di lei che tiene un arco c'è proprio l'arco teso con la freccia e se lascia il filo la freccia colpisce in piena testa l'abramovic solo che non lo c'è una performance basata sia sul l'orrore la suspense di un possibile omicidio è la fiducia che si ha verso il proprio partner Marilyn Manson disegna e si ispira nei disegni per creare video clip tra l'altro Marilyn Manson si è fatto disegnare una copertina di uno dei suoi vecchissimi album dal creatore di Alien eh ci sta cioè HR Giger in pratica signor Giger io volevo farvi vedere signor Giger giustamente questo è un quadro perché sì sì vabbè un quadro è un disegno che aveva fatto eh ma su una tela l'ha fatto del mio nostro Gerardo è vero il signor Gerardo su una tela l'ha fatto l'ha fatto su una tela ok però ho capito eh anche questo cioè musica e arte secondo me vanno veramente vanno insieme sempre di pari passo più che altro per una questione comunicativa cioè perché ok che tu nella musica devi poter incidere qualcosa quindi devi poter comunicare il tuo malessere se è il caso sì solitamente anzi la maggior parte degli artisti vanno avanti col malessere ah vabbè guarda posso fare il meme che tutti sanno cioè? Taylor Swift perché? ogni suo cd parla di un suo ex ragazzo infatti ogni volta che si fidanzo gira il meme ogni volta che si fidanza la gente dice ah quindi tra poco uscirà un nuovo album di Taylor Swift giustamente è questione di un paio di anni capito? è questo Taylor Swift cliché esatto esatto è un cliché è un meme morto però raga è un veramente tutti gli ex cioè tra gli ex di lei è nato un cd in tutti è assurdo vabbè dai di base ci ha creato un business almeno una cosa produttiva l'ha fatta tipo sì ha creato il business del della sua musica e tutto il resto vabbè sì perché comunque dico perdonami il dolore come nell'arte signor Gin io non posso leggere ad alta voce il commento però ci credo quello che dici ci credo che è molto probabile che usano la musica aspetta come era così così no 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 ti spiego ci credo che questa fazione politica estremista non europea usi la musica come mezzo per effettivamente chiamare altra gente dalla loro parte come mezzo di propaganda e di lavaggio del cervello tramite messaggi subliminali all'interno della musica l'ho detto in maniera tale che non mi può dire nulla comunque ma ci hanno fatto anche una puntata dei simpson era quella là arruolati in marina nella canzone che era diventata trend esatto era sta cosa qua che era diventata trend in quel periodo e c'era Bart che si era si stava arruolando in marina no Bart era uno dei cantanti della canzone era uno dei cantanti perché stavano facendo no erano tizi randome si vedevano arruolare ma lui insieme agli altri ragazzini facevano la parodia dei Backstreet Boys Backstreet Boys esatto loro ok no vabbè esatto sta cosa qua però appunto è sempre la questione la musica la musica di base ha un potere comunicativo molto più forte di quello artistico sì perché in quell'artistico in realtà tu stai dipingendo il tuo malessere non a caso la parola paint in inglese arriva da paint ci avete fatto caso all'epistemologia pain quindi sarebbe proprio metterci del dolore nella parola paint nella serie l'ho dipinto ci ho messo il mio dolore lì dentro tu non hai sentito quello che ho cantato nel frattempo no l'ho sentito l'ho sentito i three days grace patati i three days grace no qua comunque ci chiedono chi sono i vostri musicisti preferiti dobbiamo rispondere adesso i vostri musicisti preferiti cavolo io vado avanti di genere in genere attualmente io ti posso dire che ascolto quando ho tempo anzi ti dico esattamente la roba che ho ascoltato oggi vai però musicisti preferiti nulla da dire agli slipknot io vado sempre di pari passo con gli slipknot più che altro perché mi sono stati sempre di ispirazione ci sta ricordiamo ovviamente signor twitch mi dissocio qua non vogliamo fare questa violenza no 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 poi altri artisti preferiti while she sleeps negli ultimi anni certo raga il metalcore è il metalcore ed è capisco che non è esattamente il metal però sì diciamo che comunque la mia linea è stata sempre verso il metal sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista di performance sia mia perché io nasco come cantante prima di tutto e poi in generale sì mi sono sempre orientato verso il metal e faccio una domanda alla chat e voi invece qua stanno rispondendo qual è il vostro genere? Akira Akira Yomohaka Bjorn Origa Damon Marley System of Down Comunque io vorrei io vorrei rispondere al Spain but the S is silent spin girerei con la serie no è un meme è un meme ok ok c'è questo meme che dice di questo dito e fa I'm in Spain without without ma la S è ah no lui l'ha scritto giusto I'm in Spain ma con la S è silent giusto aspetta aspetta rewind ti spiego un attimo di di bug di sistema errore 4.4 lui l'ha scritta giusta la frase ovvero Spain sei tu che l'hai pensata male no io ho pensato al meme invece perché la frase giusta è Spain è Spain without the S quindi è pain perché Spain senza l'S è pain ma c'è il meme dove c'è quello che dice I'm in Spain without the A e quello gli risponde you are Spain e quello oh shit perché sbaglia capito quindi spin e gira giusto comunque leggevo qua nella chat parlate bene l'inglese e di base io me la cavo cioè me la cavo nel senso lo so parlare non so parlare esattamente il British accent perché è proprio chiusissimo dovrei riprenderlo tanto dovrei tornare a Londra perché io sono andato a vivere a Londra e quindi lì più del mio liceo linguistico ho imparato l'inglese esatto c'è niente da fare veramente ma comunque Bjorn comunque avevo letto la nella chat Bjorn System of a Down cioè Bjorn Bjorn la sperimentazione Bjorn vabbè ciao Bjork la sperimentazione che ha fatto è stata wow la sperimentazione sia dal punto di vista della musica ma dal punto di vista artistico cioè raga Bjork è wow ma voi avete visto di base Bjork quello che ha fatto con la virtual reality che è successo perché te la ridi no perché c'è il signor Sgozzafieri che ha scritto il British accento lo lasciamo alla regina Elisabetta Mattarella vero frero quanto pare Mattarella ha parlato in inglese di recente scusate e scisci subito pure Mattarella scisci ma in parlernitano lui ha 80 anni ci può stare dico comunque non ho detto nulla però è di base vabbè 80 anni vabbè lasciamo stare la politica un attimo perché boh è di base che stavo dicendo che Bjork con la no con la virtual reality esatto Bjork con la virtual reality perché lei aveva fatto una canzone di recente di recente non mi ricordo quanti anni sono passati in recente il tempo è relativo però aveva fatto questa canzone come esperienza tipo sensoriale quindi tu che guardavi il video lo potevi guardare sia normale che col VR e diciamo che tu entravi in questa spiaggia che credimi molto molto simile a Death Stranding come come vision proprio ed era fighissimo immergerti completamente all'interno di questa esperienza che è un'esperienza musicale tu senti i suoni come li fa Bjork e poi questa esperienza visiva proprio e quindi è proprio che ti puoi immergere nell'arte vera e propria di una performance che è quella di un musicista tra l'altro cioè capito in realtà viaggiano insieme a braccetto e wow Bjork secondo me è artista e la madonna un po' come quella volta che abbiamo visto con la virtual reality quella mostra al museo sì esatto però quella di Bjork wow più bella molto più bella vabbè non sto dicendo una più bella dell'altra no no è un'esperienza di virtual reality ver propria ti metti il coso gli occhiali e vai e ti immergi però è proprio un'esperienza di immersione di base in realtà la musica secondo me si sta unendo verso questo questa idea all'informatica tra l'altro cioè ok che comunque musica è arte è tutto un processo di creazione però perché non prendere da qualche altra parte qualche altra idea l'informatica virtual reality agganciamoci però appunto se un artista solitamente vuole comunicare qualcosa la butta nella musica in tutto il processo creativo dica poi ti fanno una domanda no ti fanno una domanda cosa ne pensi del genere rap che mi piace mi piaceva prima lo ascoltavo molto di più quando ero adolescente eh my name is my name is tiki 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 quello però è no lo so un altro secolo quello è Eminem dei primi anni 90 2000 no lo so lo so chi è no però di base il rap mi piaceva tanti anni fa soprattutto mi piaceva che so ai tempi della G unit ai tempi di 50 cent anche Eminem perché no e poi cos'altro adesso invece mi sto appassionando quando ho tempo me ne ricordo al trap al genere trap che in realtà comunque è sempre rap solo con qualche sfumatura diversa di suoni semplicemente prima magari cosa specifica che trap ti piace non quello italiano tu ti senti quello americano no quello italiano non mi piace manco per niente ci ho provato ad ascoltare più che altro il trapper che conosco e ascolto è Ghostmain se conoscete che è quel rapper trapper che si unisce al genere del metal del metal però metalcore molto più rappato cioè l'ultima canzone che ho ascoltato era proprio metalcore quindi magari lui si sta muovendo verso quella scia io ti devo fare sentire alcune canzoni trap russe che ogni tanto girano su tiktok ma sono canzoni sono fighe perché ti danno quella sensazione tipo di essere in uno scenario lucubre horror però distopico allo stesso tempo vabbè l'unione sovietica in pratica ci sta no da ascoltare più che altra a parte e comunque tutti questi generi bizzarri mi piacciono sempre un casino pure un casino e quindi questo vuoi parlare un pochino tu riguardo musica arte e roba che io mi bevo un pochino d'acqua bevesse 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 signore no vabbè l'arte che influenza la società è potrei dire anche il contrario è la società che influenza l'arte perché è stata sempre l'arte si è sempre basata sui movimenti di una società non parlo della società attuale in generale proprio qualsiasi movimento artistico qualsiasi quadro anche musica va sempre contestualizzato al momento storico al momento sociale e alla nazione e quant'altro che si sta vivendo si è vissuta perché così si può capire meglio quello che si sta guardando soprattutto tra parentesi l'arte contemporanea non si capisce una mazza se uno non conosce tutto il retroscena come spiegavo poco fa della Marina Bravamovic per fare un esempio ma più che arte che influenza la società è il contrario è la società che ha sempre influenzato l'arte solo che uno non ci fa caso e pensa di essere stato ispirato da quel pezzo artistico pensa di essere stato ispirato da quel quadro quando quel quadro in realtà è nato a causa o grazie alla società da qui nascono molti quadri molte canzoni che denunciano la società non perché un giorno si è svegliato il tizio si è immaginato questa storia di denuncia sociale la scritta cantata dipinta disegnata quello che no perché è una cosa legata alla società che sta vivendo o che ha vissuto certo no regolare più che altro è che secondo me cioè sì non esiste la situazione ah guarda c'è stato quello che ha copiato quell'opera d'arte secondo me che sono movimenti dal punto di vista della società perché la società da qualsiasi punto di vista influenza e viene influenzata questa è quella sorta di loop in cui si entra poi dal punto di vista dell'artista perché l'artista poi in realtà cosa deve fare deve acchiappare qualcosa pensando nella serie cavolo ho starnutito aspetta ho visto quella cosa cavolo facciamola perché poi alla fine è un momento però sono dei momenti impercettibilmente o lenti lentissimi tipo che vanno che seguono l'era degli eoni quindi ogni 50 anni magari che so c'è il battito d'ali di una farfalla che è stata in Giappone poi arriva sta cosa e boom la percepisco io per dire oppure sono estremamente veloci e quindi sono due estremi e non ci si rende conto per niente di quello che sta succedendo secondo me guarda un esempio che secondo me tutti conoscono come quadro che non è molto conosciuto però lo conoscono tutti l'assurdità è presente il quadro della tizia nella Parigi credo sia dell'ottocento primi novecento che è seduta al tavolo con la faccia nel sguardo perso nel vuoto e davanti al bicchiere di assenzio certo certo quella è la descrizione ecco per quanto riguarda il discorso delicato no delicato e brutale allo stesso tempo è un quadro delicatissimo sia dai colori che dalle pitture e tutto e non sta rappresentando nulla di sconcertante perché è una ragazza molto povera alla fine seduta così sguardo vuoto e davanti bicchiere di assenzio uno lo può guardare e dire boh ok però se uno sa il contesto sociale dell'ottocento quel quadro ti sta dicendo tutto critica la povertà critica alla società l'assenzio che è la morte in poche parole se tu ti bevi solo assenzio perché ti puoi permettere solo quello ciao non vivi e da qui il discorso latte legato alla società sempre e comunque no appunto ha senso quale quadro scusa si te lo faccio vedere quale quadro aspetta che lo cerco e ritorna il mood di meduso podcast che prende e boom fa vedere opere d'arte in diretta ma vabbè raga vi contestualizzo la cosa più che altro è che oggi mi sono messo a rivedere i video vecchi ma più che altro per una sorta di veramente malinconia nostalgia non so come definirla ho visto il primo video che avevamo fatto su medusa podcast di youtube e c'era e c'era lusif che aveva postato un quadro aspetta era un advertiser era uno uno spot pubblicitario quello della pasta tu lo ricordi? sì 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 comunque questo qua ragazzi è il quadro di Degas preso da wikipedia non ci può denunciare nessuno esatto è la ragazza col bicchiere tassensio dentro uno dei famosi caffè di Parigi dei tempi cioè una ragazza normalissima decadenti quel periodo decadentismo romanticismo siamo a fine ottocento cioè una ragazza vestita normale non è che tu gli stiamo guardando una prostituta e quindi allora è chiara no questa è la tua vicina di casa nell'ottocento che però sta bevendo l'assenzio perché non si può permettere altro ragazzi per farvi un esempio in chiave moderna è tipo lo sciottino di 50 centesimi al pub sotto casa in centro quando quello brutto capito questo è il livello ai tempi era un'altra cosa poi l'assenzio diciamo che lo degustavano di base tantissimi artisti cioè almeno non è l'unico quadro che rappresenta una persona che si scola o che comunque ha un bicchiere di assenzio in mano no assolutamente tantissimo raga l'ottocento era l'emblema del decadentismo e basta assenzio decadentismo quale assenzio tutta la vita ci hanno fatto pure dei film un casino di roba però comunque dal punto di vista musicale come si diceva ecco il quadro quel quadro contestualizzato quindi già lo SIF ha dettato lì ha descritto il quadro ottocento perché il decadentismo è verso quell'annata più o meno si andava all'ottocento quindi ottocento tra l'altro la solitudine viene descritta la solitudine la mancanza in qualche modo ma si vede cavolo più che altro che quella cioè guarda per noi se ti interrompo pure qua nei commenti l'hanno detto colori molto morti appunto sì in pieno in pieno esattamente ed è interessante pure per questo tra l'altro una delle piccole sfaccettature è che questa tizia che ha lo sguardo perso nel vuoto per assurdo ha un tizio accanto ma lei comunque è persa nel vuoto non è che mette lì magari niente è persa nel vuoto e prevalentemente è sicuro che nell'ottocento si andava così quindi che succede quel quadro diciamo che poi si è trasformato in una sorta di ispirazione per lo spettatore che lo stava vedendo che lo sta vedendo che lo vedrà poi e diventa esattamente un cumulo di diciamo una sorta di incubatore di ispirazione da quando è stato messo lì in mostra fino a per sempre perché poi non c'è una fine per quanto riguarda il processo di creazione perché se tu guardi qualcosa se sei un musicista e stai buono lo so stai passando la tua giornata nella maniera più chill che ci possa essere in qualche modo ti capiterà di vedere qualcosa che ti influencerà direttamente ti influencerà che c'è perché ridi no perché concordo per questa cosa io mi tocco gli occhi nel frattempo scusate da posto quindi comunque di base tu sei un musicista cammini per le strade vedi qualcosa sicuramente lo vuoi immortalare non che per forza quella cosa sia malessere però lo vuoi immortalare che c'è cosa mi hai fatto venire in mente forse la cosa che diceva anche Cesare Cremonini durante l'intervista comunque c'era un tir rosa no aspetta aspetta comunque sì qualsiasi cosa è poesia condivido assolutamente no ma la cosa mi hai fatto unire in mente credo l'abbia detto Cesare Cremonini nell'intervista questa cosa oppure l'ho sentita io da qualche parte nel dubbio non mi ricordo il fattore degli artisti che prendono boh una sedia che famo no 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 il fattore è che noi viviamo 24 ore su 24 ormai con una videocamera una fotocamera dietro e quindi sì noi viviamo in un Truman Show costante perenne esatto e non si parla non si parla più di vere e propria cioè ormai si deve fare la distinzione tra il fare arte e fare l'opera d'arte lui mi ricordo che diceva per quanto riguarda nella società in cui viviamo perché tutti ormai perché sono perché sono sì esatto perché sono due cose diverse sono due processi diversi sì perché dico pure tu chiunque può prendere col telefonato che ormai tutti abbiamo delle fotocamere potentissime fa una bellissima foto anche al cagnolino che passa e è un pezzo d'arte perché è una fotografia fatta bene ma è un'opera d'arte aspetta è relativo perché poi l'opera d'arte non implica per forza la bellezza indiscussa di qualcuno di qualcosa quella non è opera d'arte quella è soltanto a chi appare il momento però aspetta c'è vera una differenza tra arte cioè tra l'opera d'arte qual era l'altra che avevi detto? fare arte e fare un'opera d'arte fare arte e fare un'opera d'arte perché poi fare un'opera d'arte cioè vai a rendere qualcosa un'opera d'arte perché per me l'opera d'arte è qualcosa che resta non che sia per forza inestimabile ricordiamo il tizio che ha messo nei barattoli le sue feci cavolo inestimabile quella è Manzoni esatto cioè inestimabile però a quanto pare è reputato un'opera d'arte ah beh ma perché quella è arte concettuale c'è tutto un concentro contorto dietro sì appunto questo è il discorso cioè vai a rendere qualcosa una vera e propria opera d'arte che poi magari è inestimabile e non è che deve per forza suscitare un'emozione quindi deve c'è una differenza secondo me tra quello che può essere definito come opera d'arte quindi il tizio che ti fa gli squarci sulle tele il tizio che ti mette le cosette le feci dentro il barattolo che poi una persona dagli occhi super esterni quindi completamente incosciente riguardo l'arte la può vedere come vuole e non per forza deve essere reputato un'opera d'arte ma l'altra cosa che hai detto tu che mi sta sfuggendo ancora una volta è il nome fare arte fare arte fare arte quello lì è un processo creativo che si aggancia in pieno al processo di comunicazione quindi tu che vuoi fare un'opera d'arte per poter comunicare qualcosa raga è un po' come gli spot pubblicitari guarda gli spot pubblicitari quello per me è fare arte perché tu non è che stai mandando lo spot degli anni 90 tu stai curando tutti i dettagli di quella tua produzione che è semplicemente una pubblicità che puoi vedere ormai ovunque Instagram Facebook televisione devo dire due cose la prima è quella che ho letto ma voi come fate a sapere tutte queste cose siete laureati noi studiamo e siamo laureati io ho quasi una seconda io sto prendendo la magistrale in arte quindi è per questo che ne so ne so troppo sull'arte io sono quello che studia comunicazione si è preso una laurea ho pure un master faccio cose facciamo cose no quello che volevo dire io faccio cose no quello che volevo dire io la reale differenza tra le due cose nel mercato dell'arte non andai troppo lontani in realtà sai qual è? è molto becero come differenza ma a me ci piace che ci spiega becero da quanto è facile in realtà capito intuibile però allo stesso tempo le cose più facili da intuire non si intuiscono mai ossia fare arte serve solo per il commercio è letteralmente la viralità perché quella cosa è virale fa tendenza dopo un anno è morta non serve più nulla però è arte perché è fatta bene aspetta aspetta che faccio un esempio questo qua pure è becero raga quanti di voi hanno visto Scary Movie il primo Scary Movie vi ricordate di quella cosa che dicevano bella avete presente? quello non nasce come sketch per Scary Movie ma quello nasceva prima come spot come spot pubblicitario raga ed è sta quelle frasi quella scena è stata declinata così tante volte che è finita all'interno di una produzione cinematografica nel 2019 hanno rifatto la stessa pubblicità identica perché è una pubblicità della Budweiser però con come si chiama? con i cosi di Alexa esatto ora si accende sicuro però sì sta roba qua però di base appunto nella musica già è diverso però come cosa ma la viralità è contemplata perché ad esempio no ma in realtà guarda non è diverso perché appunto come stavo dicendo prima fare art nel senso come processo come processo è un po' diverso però siamo sempre lì l'opera d'arte è quella che appunto brutta o bella che sia rimane nei secoli dei secoli un esempio sono le canzoni che noi diciamo eterne possono piacere o non piacere perché magari perché poi entrano in mezzo anche i gusti personali ma uno sa che quella canzone è eterna esempio stupido prendendo una canzone aspetta dai 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 spariamo quante canzoni possono essere eterne another one by the dust e già raga esce fuori è quella non si può andare ma io non stavo citando i queen no no non lo so che non stavi citando i queen però è fatto di canzone eterna Celine Dion anche volendo la canzone il titanic di Celine Dion è conosciuta come canzone del titanic nessuno si ricorda che il titolo è my heart will go on no però è questo è fatto cioè una canzone che per quanto è bella per quanta idea di creatività e produzione hanno inserito lì dentro e poi ovviamente la performance del cantante si è quello cioè della serie è cavolo per esempio questa canzone di Celine Dion è una perla in un altro secolo si perché ricordiamo la arriva dal 1900 in 1900 il 1900 non è quasi più qui dietro 92 o 96 non mi ricordo in che anno è uscito titanic però cavolo sono quasi 40 anni che ho 40 anni io vabbè raga aspetta fermi tutti c'è una cosa da contestualizzare io ho scoperto da poco di essere doomer con la d con la d ci farò un video su youtube sappiamolo sappiamolo che tanto ne sto caricando a bestia per ora aiuto no io comunque la grazia abbiamo mille di anni siamo già più che decadenti io la canzone che volevo citare era una canzone che può piacere o non può piacere però fa parte del panorama nostro ed è talmente famosa come canzone che no 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 non citare canzoni italiane non citare canzoni italiane non mi piacciono la odio invece questa ti piace ma non ti piace quella italiana a te piace la versione inglese vediamo la canzone inglese è che è una cover fatta da Elvis Presley che è Surrender la canzone che sarebbe l'originale sai qual è? o sole mio guarda se proprio dobbiamo parlare c'è anche un gruppo inglese che invece ha fatto l'opposto ha preso una canzone italiana e l'ha resa meglio l'ha resa meglio più figa si chiama la canzone Solitary Man degli Im si la conosco che era la Gianni Morandi esatto che è una cover di una canzone di Gianni Morandi what the fuck ma più che altro non perché è una canzone cioè capito loro l'hanno coverizzata anzi non è che l'hanno coverizzata l'hanno fatta meglio ci hanno aggiunto altre roba tipo gli assoli di chitarra quelli super però boh proprio per farla loro quella canzone gli hanno pure dato un titolo diverso come appunto la canzone di Elvis no quella di Elvis in realtà è tale e quale cioè o sole mio tradotta no 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 che è stata coverizzata poi è stata tradotta esatto cioè non hanno mantenuto il titolo inglese capi sì 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 alquanto meno gli Im hanno modificato qualcosina anche se si capisce che quella è una quella di Elvis e proprio prendo la canzone la faccio in inglese infine beh però dal punto di vista delle cover cioè è quasi scontato che gli artisti ne facciano facciano una vastità una veramente una roba incredibile è come i Five Finger Death Punch che avevano coverizzato una canzone degli Animals there is a house in New Orleans the cold rising sun l'hanno coverizzata però l'hanno fatta più veloce più pesante più dura più brutal è figata però appunto dal punto di vista comunicativo musica e arte siamo sempre lì questo è l'intercalare la mia intercalare della serata come di base lo sai quale mi è venuto in mente come cover che pure due cover mi sono venute in mente belle che poi la seconda che mi è venuta in mente non è manco una cover è solo la variante la prima è Sweet Dream The Eurythmics quella antica che è bellissima però poi è stata fatta anche da Mary Manson oppure una canzone che è una variante non è una cover perché comunque è sempre nata da quelle persone è solo che è stata fatta la variante this is Halloween giustamente andiamo a ballare la ballata della zucca insieme va bene ciao sgozzafiori bella raga grazie per essere passati di qui no comunque la cosa che stava di musica e arte che comunque di base si va di pari passo perché se tu stai creando musica è tutto un processo di creazione è unico cioè uno prende uno spunto da una parte arriva l'altro ne ha preso uno spunto dall'altra parte si uniscono si condizionano si espandono si influenzano che poi in realtà appunto perché parlo del fatto che la musica ha un potere comunicativo più forte di quello dell'arte perché la musica se è fatta bene se è fatta veramente bene e ci pensavo stasera prima della live se è fatta bene dal punto di vista sonoro è lì è già lì eccomi io ascoltavo stasera per caso una canzone dei brimmi di horizon e ascoltavo sia le parole e poi da un altro punto di vista quindi diciamo che ho separato le due cose stavo ascoltando il suono della come si chiama della canzone in generale quindi la parte instrumental io ho notato che comunque più la parte instrumental è profonda e diciamo stimola tantissimo all'esperienza dal punto di vista anche del dolore come fa l'arte perché la musica alla fine è arte meglio è per l'artista perché alla fine io ho pensato ma le parole di una canzone prevalentemente non le ascolta nessuno prevalentemente poi la gente nel futuro sì perché la gente diciamo che è presa dalle strofe da tutta la traccia instrumental più che altro magari mette una parola di qua una parola di là e un'altra lì poi magari però le persone se hanno la curiosità quindi se viene stimolata la curiosità negli anni diciamo che le persone poi possono leggere il testo e si fanno un'idea diversa rispetto a quella che loro avevano acquisito mentre avevano ascoltato tutta la parte strumentale perché la parte è la parte strumentale che fa andare avanti nei secoli una canzone cioè io ho già ascoltato delle canzoni che arrivavano dal 2012 sono otto anni fa di più nove forse anche di più dieci quasi dieci però però di base mi è arrivata sta botta prima di tutto della parte strumentale e poi il potere comunicativo del testo chi è? che succede? ho salutato una persona alla chat chi è? che saluto pure io io non vedo la chat si chiama Truxy Junior ho salutato ho detto ciao 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 esatto ciao di base è questo secondo me che a primo impatto c'è il potere di incisione dell'arte quindi l'arte deve poter essere incisa tu non la puoi incidere se registri soltanto la parte del testo perché il testo poi può cambiare di base ma è più importante prima di tutto incidere la parte strumentale ed è per questo che si parla di dolore inciso nell'arte e poi dopo il testo e gli racconti una storia perché poi c'è anche il potere dello storytelling che veramente differenzia qualsiasi produzione artistica musicale quello che volete raccontare una storia ti sembrerà assurdo ma le mie canzoni preferite sono quelle non cantate perché tu gli puoi costruire la storia è come avere un foglio bianco cioè non è che per forza ci deve piacere l'opera d'arte del secolo ma se tu hai il tuo foglio bianco o magari qualcuno che ti dà delle indicazioni riguardo quel foglio bianco di base ti può venire anche più facile creare la tua opera d'arte nella musica funziona così secondo me perché se tu ascolti la parte instrumental anche a me piacciono le parti instrumental di una canzone cioè delle canzoni instrumental proprio però secondo me è proprio lì che l'autore della canzone lascia tutta la libertà di esprimere di esprimersi o comunque di far esprimere l'ascoltatore è così quindi il processo creativo si fonderà soltanto sulla parte instrumental comunque Cri cosa che vuoi dire in più? cioè io continuerò a parlare però è no io sto nella mia mente mi sta facendo viaggiare nelle canzoni instrumental che io ascolto quelle epiche normalmente per i vari momenti della giornata cioè quelle da relax quelle da devo distruggere tutto quello che sto facendo in senso positivo capito? darmi la carica in pratica quella è la guerra letteralmente infatti si chiamano tipo fantasy prepare to war una cosa simile sono tipo tutte veramente sì ognuna che scandisce perfettamente il mio stato d'animo e oddio ce ne fosse una una parlata una no sono tutte tutte orchestra tutte e aspetta aspetta una domanda mi puoi ricordare il punto di vista del rischio durante la produzione di qualcosa dal punto di vista musicale ma anche artistico non ho capito mi puoi parlare del punto di vista dell'altro punto di vista della creazione che è il rischio se tu produci qualcosa stai investendo dei soldi ok se te non frega nulla di quello che stai o meglio allora dal punto di vista dell'arte se tu sei un artista che non punta al mercato dell'arte non punta ai soldi di base andiamoci così no aspetta questi sono gli homeless io ti parlo di una persona che vuole avere una fama no non sono gli homeless sono anche la gente la gente a cui i soldi escono da tutti i lati fidati ma se uno non punta al lato del mercato in generale già parte col presupposto che non corre rischi che faccio cilecca che funzioni se invece uno parte col presupposto che lo sto facendo perché lo devo vendere a un pubblico hai fallito in partenza e corri dei rischi no aspetta aspetta io ti parlo dal punto di vista musicale perché se tu vuoi incidere che è diverso rispetto a disegnare dipingere se tu vuoi incidere qualcosa cioè tu non vai da solo quindi sei tu artista che dici picciotti fermi tutti ci penso io qua levatevi datemi un microfono e vi sfondo non è esattamente questo è un po' il fatto di rischiare al 100% ogni volta che tu vuoi creare un album nuovo secondo me perché ma io ti parlo dal punto di vista del musicista cioè quello che fa il musicista come lavoro nella vita quindi tu sai che è un libero professionista non è un artista cioè un artista come un pittore intanto intanto ciao DJ Gabri ciao bello che ci fai qua ma ciao come stai qua e poi seconda cosa che uno è un artista dal punto di vista del disegno che sia un punto di vista del cantante se uno non sa già di correre dei rischi di mentre sta creando qualcosa di nuovo in questo caso un album nel senso non è che ha già fallito in partenza ti parlo dal presupposto del se uno deve creare un album o anche un singolo perché ormai come diceva Fedez che ormai faceva lui i singoli che comunque andavano bene anche come album beh perché ci siamo evoluti dal punto di vista digitale tra l'altro fare un album quante speranze hai che la gente lo possa ascoltare tutto 20 tracce 20 anni fa magari sì ma adesso di meno il punto è questo non è tanto cioè se tu stai facendo un singolo giusto lo stai creando perché devi devi arrotondare a fine mese devi guadagnare devi fare dei soldi hai il 50% di rischio che vada 50% di rischio che non vada e hai buttato tempo e soldi perché già tu parti non stai partendo col presupposto che lo stai facendo perché ti è venuta quella vena quella minima vena artistica o quella piccola ispirazione o comunque che vuoi raccontare effettivamente qualcosa no lo stai facendo solo per il mero gusto di avere dei soldi in tasca e allora già stai partendo con un presupposto talmente sbagliato che le probabilità di fallimento sono talmente alte che una manco se le puoi immaginare eppure non se le immagina perché sei partito col piede sbagliato è come dire mi sto scalando una montagna pericolosissima con i tacchi lo puoi fare ma il rischio che cade è tipo del 99% esatto esatto e di questo appunto parlavo cioè quanto può essere alto il rischio effettivo del fatto di stare lì a creare qualcosa e poi magari dopo che perdi sei mesi un anno un anno e mezzo di creazione quindi c'è un tempo abbastanza grande capito? sì se lo stai se lo stai facendo col presupposto della popolarità e dei soldi allora già hai fallito e verrai dimenticato ma io ti parlo del fatto pure se guadagni al mese cioè se i guadagni poi sono cumulati in base al lavoro svolto quindi è come per esempio il tuo datore di lavoro ti dice guarda se tu mi fai bene il tuo lavoro ti pago se no ti pago tra sei mesi però capito c'è il fatto di fare bene il tuo lavoro prima di tutto capito? cioè quindi se tu produci qualcosa che posso essere più o meno eterno perché poi nella musica e nell'arte si viaggia seguendo questa scia e allora io ho la controdomanda a questo punto tu se fossi un musicista ti accontenteresti di essere il pezzo del momento per avere anche la fortuna di esserlo o avere una cosa un po' più duraturia che che magari a primo colpo non fai il botto però col tempo voi lo fa cioè vuoi essere quello commerciale o quello che effettivamente piace alle persone perché riconoscono te come artista te come persona e la tua musica come pezzo d'arte non come la canzone del momento no l'ho capito però infatti di base io non mi sono mai approcciato alla musica dal punto di vista di boom sfondare a quest'ora io sarei a los angeles per dire alla capital records se avessi avuto questo obiettivo nella vita però in realtà no cioè la fama passeggera chi no no credo che quella là non sia assolutamente qualcosa con cui poter convivere perché poi tu ci devi poter convivere quante volte ormai ah cavolo cioè si è sentita una frase ah cavolo ma hanno scongelato Michael Bublé Michael Bublé tizio X perché perché hanno creato quella cosa che però in quel determinato periodo della vita di una persona magari ritorna è ricorrente no io semplicemente parlo di un lavoro commensurato allo sforzo capito costi benefici io non parlo del fatto che ho investito due una cosa nel genere nel mondo della musica e dell'arte non esiste quello è il punto lo so però dal punto io che lo so comunque cioè il rischio è questo o fai 0 o fai 10.000 perdonami aspetta che succede signor Truzzi per me il follower lo puoi togliere dico non è che ci importa molto solo perché non lo so tolgo il follower ciao e se la stava prendendo pure con Gabriele va bene ma che è successo va bene e noi i follower simili non li vogliamo noi vogliamo gente tranquilla e pagata che parli con noi mentre facciamo il po io non ho capito niente tiltati tutto qui raga godetevi la serata siamo qui nel cilio relax ma relax non perché della serie oh state calmi vaffanculo perché adesso posso dire quello che voglio no scherzo però semplicemente ascoltate dialogate tanto noi leggiamo però capiate che non possiamo interrompere ogni due secondi sì esatto ad ogni modo che già questi questo qua credo che sia appunto un cumulo già era un argomento abbastanza pesante appunto è ostico io già faccio fatica a parlare quindi è ostico poi di base appunto che stavo dicendo era rifatto il rischio il rischio sì no lo so o zero o diecimila questo è vero se tu vuoi fare la vita da musicista o artista che sia sì perché oggi ti può andare bene hai inciso una canzone e vai lo sai max pezzali che è una cosa simile sai dove la fanno cioè allora quello che intendi tu io l'ho capito avere una sicurezza di base al di là del non parlo di sicurezza io parlo il lavoro del musicista cioè non è sicurezza perché tu non lo sai cosa può piacere alla gente a meno che tu non ti connetti con la testa della gente col cervello della gente con i pensieri della gente appunto c'è questo rischio o zero o mille sì lo so lo so no no aspetta fammi finire tranne in un paese quale paese in in Norvegia in Svezia se tu sei un artista indipendentemente da cosa fai come arte che è pittura musica lì siamo nel 4.000 sì lo so là ti danno uno stipendio comunque fisso lo stesso là c'è una laurea in metal c'è una laurea in metal parliamone cioè per dire no però il fatto è che io penso grazie per il follow Biba grazie Biba grazie 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 per essere passato di qui che bello che finalmente ti posso vedere anche qua no comunque il fatto è che semplicemente io parlavo del fatto ecco stipendiare un musicista perché un musicista non è che può viaggiare solo nell'onda del libero professionista perché non è un libero professionista un artista ma è una persona che appunto forse fa cento volte di più rispetto a una persona normale chiamiamola cioè una persona che magari fa un lavoro stipendiato quindi ha delle sicurezze e così via cioè un artista è un artista tu sai che lui sta facendo una performance sta pensando mentre che tu sei a lavorare in ufficio magari sta pensando cosa poter creare il giorno dopo che è successo? chi hai salutato? ho salutato Desgravis sono tutti i tuoi follower io per non interromperti saluto con la manina ma ciao bello come stai? tutto bene? stasera seratina chill con Medusa però appunto ce la vedi in nord Europa sono talmente avanti che indipendentemente dalla fama del dell'artista loro comunque danno uno stipendio come minimo a livello stadale perché è una figura di importanza nazionale per lo Stato perché l'artista che sia un musicista che sia un pittore che sia un architettore di qualsiasi tipo è comunque un bene è un bene per lo Stato cos'è che qui in Italia non capiscono che noi siamo un bene però vabbè lasciamo lasciamo buonasera Lilith tutti i tuoi fan qua sono ma ciao ma ciao cari ciao come state? che bello vedervi qua patati aspetta aspetta abbiamo delle domande inedite aspetta aspetta io ho un cuoricino un cuoricino vai io voglio mandare un cuoricino allora intanto il simbolo del podcast mi ricorda Caparezza no è la Medusa come mai avete a far vedere la foto di Medusa per favore no ma la vedono in live la vedono fidati c'è il logo no no l'opera d'arte l'opera d'arte dico ah ora la faccio dai quella aspetta perché DJ Garby ha chiesto perché aveva deciso di chiamare questo podcast Medusa siccome lo dico sempre io il perché lo vuoi dire tu a soggio perché l'abbiamo chiamato Medusa Podcast allora perché Medusa Podcast allora raga noi siamo di Palermo lo sapete io lo dico sempre in live ormai a Palermo c'è un dipinto dipinto vabbè dico è street art però dico sempre dipinto è appunto è un'opera di street art dipinta dove era in una sorta di cassonetto e l'immondizia esatto in una sorta di cassonetto e l'immondizia che era cosa? io lo cerco nel frattempo vai appunto era stata dipinta con le bombolette spray direttamente in un cassonetto dell'immondizia l'opera Medusa di Caravaggio e adesso Lucif ve la fa vedere e quindi questa diciamo ecco questa è l'opera quella vera quella proprio di Caravaggio però questa qua ah no nel coso delle poste quindi siccome io sono fan di Caravaggio di base raga i colori di Caravaggio sono i colori di Caravaggio c'è niente da dire e Medusa appunto diciamo che si trova in un posto a Palermo che è prevalentemente turistico infatti là è piazza Sant'Anna lì dietro e e quindi raga è strano vedere un'opera d'arte super inestimabile però dipinta in una cassetta della posta quindi diciamo che quando ci abbiamo pensato io e Lusif abbiamo pensato questo perché anche una sera mi ero ritrovato a passare da quelle zone da quelle parti e boh ci abbiamo pensato e ok ci è piaciuto che succede? noi siamo fan dell'arte raga lei è laureata pure si sta alzando dove sta andando? dove va? ora prende la testa di Medusa quella vera ah no quella con la cartolina ok vediamo ecco sì esatto perché di base noi siamo super follemente innamorati dell'arte io non sono laureato all'accademia però raga dal punto di vista artistico sono super appassionato e poi c'è anche un altro motivo del perché Medusa ragazzi comunque e l'ha detto tipo veramente sì l'altro motivo è legato al mito è legato al mito della Medusa eh lo puoi raccontare per favore che siamo nel mood io faccio una domanda alla chat ragazzi voi conoscete il mito greco di Medusa? no ma tu raccontaci aspetta voglio vedere se lo sanno però lo racconto lo stesso è tanto per interagire un attimo raga voi lo sapete il mito di Medusa quello greco? io siete impazziti impazziti sì lo sapevo che il delif lo sapeva io ci avrei scommesso lo sapevamo io lo sapevo che tu lo sapevi no ma devo studiarlo vedi ecco ho studiatolo raga è bello no nemmeno lui va bene perché allo sif non piace la smr no il no è l'ho letto non per te no e anche per me in realtà mi hai sentito parlare si che ti ho sentito allora il mito di Medusa c'era questa bellissima donna chiamata appunto a proposito di arte ma soprattutto di musica perché Caravaggio raga ricordiamo che era un menestrella ai tempi lui faceva quello era Leonardo ah no no quello era Jack Black hai ragione va bene ecco è vero però questa cosa di Leonardo è vera Leonardo faceva il menestrello comunque suonava la lira la lira a proposito arte e musica Leonardo che suona la lira comunque Medusa era una ragazza bellissima che praticamente un giorno lei doveva praticamente si stava consacrando a un tempio non mi ricordo il tempio di Atena no era il tempio di Atena era una delle future sacerdotesse consacrate al tempio di Atena perché c'erano tante sacerdotesse e bla 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 praticamente una notte Poseidone l'ha vista e l'ha trovata talmente bella e indesistibile che l'ha stuprata dentro il tempio di Atena e c'era Medusa che chiedeva aiuto ad Atena giustamente perché Atena che ha fatto Atena ci sarà un motivo se no aspetta aspetta è giusto che quella povera ragazza che era stata violata all'interno del tempio che chiedeva aiuto in lacrime urlando eccetera eccetera chiedeva aiuto appunto alla sua dea che era Atena Atena quando è arrivata dopo che era finito tutto l'amplesso quindi proprio l'ha lasciata fetere all'inizio è arrivata e anziché tipo aiutarla o prendersela con Poseidone si è incazzata perché si dice incazzata perché era colpa sua e soprattutto tutto era successo all'interno del suo tempio quindi non andava bene e l'ha maledetta l'ha maledetta ad essere una gorgone dai capelli a serpente ad impietrificare tutti però e questo è il mito cioè l'ha maledetta però c'è da dire c'è un allora di recente c'è stato fatto uno studio antropologico su questo mito basato sul fatto che in realtà la sua non fu una vera sì è stata una maledizione ma è stata una maledizione legata più al proteggerla come a dire questo è successo ormai io ti trasformo in una gorgone in maniera tale che se qualcun altro prova ad avvicinarsi a te e fa la stessa cosa che ha fatto Poseidone tu lo ammazzi c'è anche questa visione questa chiave di lettura come se Adenia le avesse dato un'arma per proteggersi da appunto chi voleva farle del male ma che ho sentito questa signor Desgriffs questa è praticamente mitologia come l'hai chiamato povero sono senza occhiali sono senza occhiali non leggo bene i nomi non leggo bene i nomi perdonatevi questa è mitologia greca no però è vero fatti narrati nella mitologia sì in pieno però sì it happens Atena che ha che aiuto di sé che fa sì comunque Desgavrè adesso ti chiamerai The Great Caspi ma perché? però sì per un piccolo parentesi sì guarda che la comunque raga questa è la mia vera voce sono topolino adesso lo sapete sono topolino la mitologia la mitologia greca è così è molto patriarcale ingiusta piena di stupri uccisioni incesti mi dissocio mi dissocio mi dissocio ma stiamo parlando di mitologia Zeus che fa cose Zeus che fa cose Zeus che entra nei balconi delle donzelle comunque Zeus che vede una donna subito la mette incinta non sto scherzando mi disgrego da questa affermazione mi disgrego Zeus è un pazzo sì in realtà sapete chi è nel pantheon greco sapete chi è l'unica divinità che non ha mai commesso da questo punto di vista omicidi stupri o qualsiasi altre cose abberranti che hanno fatto invece gli altri dei sapete chi è? sei tu no è una divinità che contrariamente da tutto la Disney l'ha disegnato come il cattivo supremo Achille no che c'entra no Achille era solo omosessuale innamorato di patroco e non c'aveva poi mi dissocio Cristina allora che cosa si possono dire queste cose mi dissocio nel dubbio non lo so queste cose le possono dire si che si possono si che si si cura le lette le regole della commune non è che le ho lette queste cose io ne parlo nelle mie live nelle mie live era da tanto tempo che non facevamo medusa podcast stasera goleardia portami via Achille comunque è un semidio no non è lui non è manco Ercole che a sua volta è un semidio è una divinità vera e propria fa parte del pantheon principale delle divinità ed è un villain nella Disney di sto parlando raga Giafar faceva parte del pantheon delle cose no dai il pantheon greco è un villain nella Disney Ade Ade chi mi ha spento i capelli chi mi ha spento i capelli sete no però si ade deriva da qui il trigger sete però si come ade 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 è l'unica divinità nel pantheon greco che non ha commesso nulla di tutto ciò perché lui per la mezza volta che è uscito dagli inferi per farsi sta passeggiata ha visto questa bellissima ninfa nuotare in un lago che era Persephone perché Persephone è una ninfa l'ha vista se ne è innamorato l'ha presa se l'è portata con sé lei si è innamorata di lui cioè la loro è una storia d'amore molto complessa una storia d'amore molto complessa ve la sto dicendo molto veloce ma la loro è una storia d'amore ed è qui che sono nate le stagioni a better love story than twilight comunque ma aspetta è da questo mito che nascono le stagioni perché quando Persephone è sulla terra è sulla terra dei vivi il mondo gioisce e nasce la primavera e l'estate quando Persephone torna negli inferi da suo marito il mondo piange per la sua scomparsa e arriva l'autunno e l'inverno è perché Persephone fa nascere un fiore quando arriva sulla terra sì no è vero c'è niente da dire fa nascere un fiore ma è vero comunque sì come siamo arrivati a parlare di divini raga io starei ore a parlare di divini letteralmente capelli lunghi neri e barba sono io sono io se volete raga io un caldo abbraccio d'inverno ve lo posso dare sì assolutamente ormai che ci siamo ragazzi vi faccio vedere Ade e poi ditemi se non è James a sto punto stiamo divagando quando mi metto la matita soprattutto quando faccio ASMR sono Ade è vero esatto Ades and Persephone ah ah eccoli qua che tipo non c'entra niente con quello di God of War no cioè guarda che meraviglia di God of War scusami di Hercules no guarda che meraviglia che sono loro a parte che io sono alto quanto un comodino cioè vedi sono bellissimi raga mi somiglia cioè si vede siamo una goccia d'acqua una sola ma puoi dire che è tre chilometri come fai a dire sembra James ma vabbè per i capelli raga è alto tre chilometri io sono basso guarda che belli lo Siff è convinta che io sia alto cioè non lo so guarda che sono belli però ecco questo sei tu no lo so Sofì ma te ma dai stessa barba e stessi capelli sì ma tra la barba e i capelli c'è una faccia non credo che siamo esattamente uguali ma comunque di base e quindi per quanto riguarda l'arte e la musica la musica e l'arte è la società la società non hai parlato più della società ci racconti dell'influenza che la musica deve avere e che ha come l'arte nella società ora te lo dico prima un secondo rispondo a Lilith non me lo dici più no no cosa Lilith cara che succede? sì mi hanno parlato ho letto Iddu mi hanno parlato un attimino della mitologia egiziana sopra mi hanno parlato del mito di 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 Seth che vuole diventare il nuovo re d'Egitto e si scontra con sua nipote mi hanno raccontato alcuni particolari del mito e io ero tipo ma che cosa ma veramente così malati erano sì spoiler sì non lo racconto qua perché finiamo nella pornografia ragazzi se io veramente mi lamentavo dei miti greci per essere scabrosi dal punto di vista sessuale gli egiziani li battono lo sapevo che finiva la versione Brokeback Mountain lo sapevo Jay Gillenall che combina no li battono credimi quello è brutto brutto è già là siamo all'estremo quello è brutto 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 il finale brutto 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 ma per sette brutto brutto considerando quello dubbio ho letto sistema va down in chat esatto aspetta facendo un'introduzione Lucif Lucif che musica ascolti musica epica togliendo qualche band sporadica che ascolto tipo My Chemical Romance togliendo tipo My Chemical Romance o robe così parlo più ascolto musica epica ora mi rifai la domanda che mi avevi detto prima sulla società e la società come viene influenzata dalla musica e dall'arte o l'arte e la musica che influenzano alla società tutto tutto è per tutti aspetta aspetta dai no veramente allora serietà la musica e l'arte come possono influenzare secondo te la società cioè quindi in realtà appunto attraverso la creazione visto che abbiamo parlato del processo creativo abbiamo parlato della comunicazione che viene esattamente inglobata all'interno della produzione musicale come può questo atto comunicativo perché poi si parla di atto comunicativo vero e proprio poter viaggiare ed influenzare perché non è solo un'opera d'arte che rende lo spettatore passivo lo sai qual è il trucco cosa? riuscire a trasmettere un messaggio che sia oggettivo nella sua soggettività cioè deve essere una cosa oggettiva a livello mondiale ma che richiama te magari può richiamare te può richiamare qualcun altro per motivi diversi ma deve richiamarti nella tua soggettività e deve essere allo stesso tempo oggettivo e non è facile realizzare un pezzo d'arte così aspetta dal punto di vista appunto dello storytelling come può un racconto perché per adesso stanno nascendo dei racconti tu pensa a Lil Nas che ha fatto il boom con i suoi racconti perché ho ascoltato le altre canzoni pure io no io solo no io qualcun'altra l'ho ascoltata tipo quella la natalizia che aveva fatto in versione Babbo Natale l'avevo ascoltata però cioè la produzione musicale che si aggancia anche allo storytelling quindi c'è l'artista che dal suo punto di vista soggettivo perché Lil Nas aveva raccontato come aveva prodotto in un'intervista che avevo visto tempo fa come aveva prodotto che c'è guarda senza andare troppo lontano una canzone molto più Lil Nas è qua non è che su Marte povero no è vero scusami all'inferno esatto no una canzone che entrambi conosciamo in questo senso per questo senza andare troppo lontani è che nella sua oggettività ha preso chiunque nella sua soggettività quindi chiunque ha una chiave di lettura diversa di quella canzone di quel testo ci vede quello che vuole lui o lei ma è la canzone enemy ma tu sai che mio cugino l'altra volta di dieci anni si era messo a cantare questa canzone everybody want to be my enemy ok raga questa canzone è diventato il trend veramente dell'universo è una canzone di Arkane la serie televisiva di League of Legends e questa canzone è stata scritta dall'Ariot Games non da Imagine Dragons ma l'hanno cantata Imagine Dragons però ho capito le abilità degli storyteller cioè a parte che stiamo parlando di League of Legends che raga sta facendo il suo successo con le lore ma quello è un altro discorso e con le canzoni sì però il fatto è che se tu racconti una storia e quindi incidi lì dentro quella canzone un punto di vista emotivo perché se tu ascolti Enemy leggi il testo boom sei a Piltover direttamente ma il punto è questo o comunque nei sotterrani no ma in generale ma in generale tu sei dove vuoi perché se non sei per forza fan di Arkane ma ascolti la canzone la canzone è stata strutturata talmente bene che tu ti puoi rivedere in qualsiasi contesto perché tutti vogliono essere il mio nemico esatto è per questo che con quelle abilità da storyteller tanto quanto quelle da copywriter quindi una persona che sappia scrivere ma soprattutto non che sappia scrivere e basta ma che sappia scrivere nella maniera più creativa e strutturata possibile secondo me può far andare avanti quel messaggio sempre per eoni sì per eoni veramente almeno per 50 anni 100 anni quel messaggio va avanti per le prossime generazioni cioè vabbè che comunque per esempio noi ci ricordiamo ancora delle canzoni di Elvis perché perché ha proprio creato questo processo comunicativo e creativo e quindi è andato avanti ovviamente lo sappiamo che comunque Elvis si ispirava tantissimo a Forrest Gump però però comunque ha fatto andare avanti e vabbè voleva rivedere i passi di Forrest Gump quindi gliel'aveva chiesto però di base appunto il processo comunicativo e creativo è tutto un gran purpurri di di elementi che però appunto tutto per il fine o del marketing perché raga noi viviamo nell'era digitale PT1000 in cui si vuole mandare un messaggio a qualcuno alle volte anzi leviamo alle volte prevalentemente per diciamo mandare un messaggio pubblicitario non lo so attirare clienti fare di tutto che è una cosa che non si poteva fare qualche anno fa perché ancora non si avevano gli strumenti e i mezzi eppure per esempio eppure eppure c'è qualcuno che l'ha fatto con una canzoncina terribile che ti entra in testa quale? sono gli sconti Loris raga questa è una canzoncina abberrante che ascoltate che si ascolta solitamente dopo 40 anni letteralmente nei cinema di Palermo veramente nelle sale cinematografiche di Palermo credetemi io lancierei le pietre perché mettono sempre questa lancierei le pietre nelle casse veramente solo che Spider-Man lo voglio ancora vedere sono gli sconti Loris c'è questa canzone di merda ragazzi ancora non esisteva il marketing in generale dal punto di vista musicale con la pubblicità e loro solo sono inventati noi non sappiamo se il negozio è fallito o meno però questa canzone dopo 40 anni è vero? no esiste ancora però di base sì cioè appunto riguarda il fatto che prima non si avevano gli strumenti più che altro non si avevano negli strumenti per poter produrre qualcosa ma non si avevano le conoscenze come tipologia di strumento perché l'unica cosa che potevi creare nel passato era si basava sulla ripetitività perché capito la viralità in teoria era la ripetitività negli anni 80-90 quindi tu prendevi quella cosa e seguendo diciamo il processo dell'overlapping quindi la ripetitività cinematografica dal punto di vista cinematografico quindi dei tagli del montaggio e tutto il resto tu mandavi quel messaggio però il messaggio non è ah cavolo quella persona ci deve pensare però prima di fare quell'azione cioè quella persona lo deve fare perché lo deve fare fine perché io lo sto dicendo mille volte e quindi alla mille uno che lo ascolta lo farà raga non c'è mai andato nessuno a comprare vestiti da Loris a Palermo io manco sapevo che era un negozio di vestiti se non me lo diceva James l'altro giorno ad esempio esatto raga perché poi la ripetitività delle cose tipo eco poi fa sì che questa cosa diventi una leggenda ti ricordi di quella cosa che ascoltavamo cioè magari la gente non dà neanche tutto quel valore a quella cosa esatto semplicemente comunque ci sono delle domande in certo aspetto che succede? comunque io mi sono immerso in The Wall più che altro e anche con caparezza molti album li ho analizzati ma si può essere ospiti del Medusa Podcast e poi Lilith scrive io devo ancora vedere House of Gucci e quando uscirà Matrix Resurrections Matrix non vedo l'ora in questi giorni ci vado tutta la vita comunque è grande è sempre un piacere parlare con te di musica e tanti argomenti fichissimi tanto poi domani se passi alla mia live in solitaria ne parliamo parliamo tanto sì per i dati miei e quindi quindi questo tanta roba poi vuoi aggiungere vuoi aggiungere altro? mentre parlavi del tra gli anni 80 e 90 ma in generale nel 900 con la musica che era un io copio il tuo stile e lo rifaccio a modo mio perché così siamo tutti virali in qualche modo poi ho pensato ai Queen che per il loro tempo ai tempi loro hanno veramente osato se ti ricordi anche nel film lo fanno vedere come loro hanno tentato di osare Bueman Rhapsody che non la volevano mandare perché era troppo lunga sei minuti sei minuti cioè ragazzi per me o mai sei minuti di canzone sono tipo lo standard per dire allora allora io fino a ieri fino a ieri pomeriggio vi racconto questa storia fino a ieri pomeriggio stavo affrontando questa questa conversazione riguardo la musica anche con mio padre perché lui è appassionato di musica diciamo che mi ha fatto conoscere lui in primis la musica raga io ho conosciuto ho conosciuto la musica con El Diablo di Piero Pelù no vero mio padre me l'aveva fatto ascoltare da bambino tipo e ieri appunto si parlava del fatto ma i Queen che ne pensi ma invece i Maneskin perché ci sono anche i dibattiti quelli folli e feroci su queste band una da un punto di vista l'altra da un'altra ancora e così via e per quanto riguarda i Queen io ho spiegato io ho detto a mio padre più che altro non è che ho spiegato ho raccontato il mio punto di vista che i Queen per la loro epoca perché secondo me appunto la musica deve sempre essere contestualizzata perché non c'è un genere strafighissimo e gli altri no no i System of a Down per esempio non esistono più però il fatto è che vai a portare una canzone dei System of a Down adesso nel mercato quando il mercato musicale è completamente cambiato certe band io penso che devono stare esattamente in una sorta di bolla in quel contesto quindi in quegli anni System of a Down hanno fatto un super successo nel 2005 con Mesmerize e Hypnotize i Queen hanno fatto un super successo con Bohemian Rhapsody ma prendi questi due album di due epoche storiche completamente diverse rispetto ad adesso e falli crescere anzi non farli crescere falli esplodere come è successo nel 2005 non credo che esattamente adesso ci possa essere lo stesso potere comunicativo certo in qualche modo una casa di produzione di qualche non lo so qualche etichetta discografica lo troverebbe tanto quanto trova l'etichetta discografica di Ozzy Osbourne a piazzare Ozzy Osbourne nella produzione musicale perché? perché gli fa fare mille canzoni con che so Post Malone oppure magari uno degli ultimi video di Ozzy Osbourne c'era come attore Jason Momoa che ha avuto diciamo il suo periodo di super trend quando ha fatto Aquaman e tanta roba quindi si parla di questo in realtà cioè secondo me alcune canzoni possono sì ritornare come è successo per il film dei Queen Bohemian Rhapsody e quindi dopo quel film tu da casa di produzione anzi no credo che quel film sia stato autoprodotto dagli stessi Queen che erano rimasti hanno finanziato loro ecco perché? perché appunto ci doveva essere un ritorno dei Queen vero e proprio quindi loro hanno investito sono entrati un'altra volta nella questione rischio perché tu pure se investi dal punto di vista cinematografico stai rischiando anche tanto forse anche di più della produzione musicale perché ti serve il budget gigantesco per pagare attori del calibro di Rami Malek esatto e molto spesso puoi fallire vedi tutti i film della DC tranne Joker vabbè quello però per dire film strapagati budget infiniti no lo so cioè ma più che altro è che per quanto riguarda Joker diciamo che Joker ha avuto un'evoluzione nella storia il primo Joker è stato come si chiama non è stato Jack Nicholson ma c'era un altro film prima del Joker dove c'è Jack Nicholson che appunto è stato quel Batman di Tim Burton c'era un altro film non mi ricordo come si chiama l'uomo che rideva si chiama questo film e poi tanti altri Joker ci sono stati dopo l'ultimo più brutto è quello dove c'è Jared Leto ma va bene così però aspetta aspetta non è colpa di Jared lo sappiamo no assolutamente no allora aspetta i system non possono essere venduti per la questione dei conflitti soprattutto in Turchia o quando fu pure per Biob allora questo è vero però guarda non sono l'unica band ad assurdo ed è subito BYOB non sono gli unici a subire questa cosa io ti faccio un altro esempio vedi qua c'è il problema anche di essere quando sei famoso e con la musica vieni censurato perché invece nel mondo dell'arte se sei famoso e vuoi fare critica alla politica ti è concesso anche se è critica pesantissima della peggior specie proprio che te la sbattono in faccia te la lasciano comunque fare nel mondo dell'arte nella musica no appunto ti censurano e ti prendo un esempio nella musica di meno nella musica di meno perché lì puntano più a una questione commerciale alla fine perché c'è sempre mamma Stati Uniti che vuole incassarsi tutto però aspetta 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 perché io leggevo no io volevo arrivare a un'altra band che sta soffrendo dello stesso problema dei system chi sono? sono i Rammstein quello è vero geolocalizzato in un altro paese però sì giustamente vabbè ma là perché loro hanno ormai da tanti anni come si chiama lo stigma di quello che era successo durante il periodo della seconda guerra mondiale pure sì e non solo cioè loro hanno criticato più cose hanno criticato più cose all'interno delle loro ragazze nel video e vengono a sua volta criticati tipo c'è questo strano lo raccontavo una ragazza me lo raccontavo una ragazza che è tedesca che lei è pure fan dei Rammstein però non può dirlo apertamente in Germania cioè ragazzi siamo a questi livelli perché se tu dici che ti piace il Rammstein la gente pensa che tu sei un nazionalsocialista per non dire l'altra parola capito capito no appunto dico si portano dietro come dicevo questo stigma del del secolo scorso giustamente che ancora diciamo che l'umanità adesso a distanza di tanti tanti anni non è ancora del tutto digerito no cioè nel senso separato e digerito rispetto alle cose e alle persone in un altro periodo con un'altra idea con gusti diversi fanno i musicisti semplicemente che poi semplicemente ovviamente loro vogliono esprimere la propria arte ma guarda la propria musica cioè proprio in Rammstein per fare un esempio loro fanno la critica a questa all'ex partito nazionalsocialista fanno questa critica nel loro canzone o Deutschland ci sono scene in Deutschland che proprio sono ma i nerds in flammen comunque vabbè a parte quello dico in Deutschland ci sono le scene girate nei ghetti e non solo dove proprio ti fanno la la critica a quello che è successo in generale alla storia della Germania è una delle critiche che hanno ricevuto per questa canzone solo da parte dei tedeschi ovviamente perché poi tutto il mondo la canzone è stata amata i tedeschi si sono lamentati che la rappresentazione della Germania all'interno del video che poi è un film non è un video per quanto è bello è vero non per la lunghezza della canzone ma proprio perché è figo raga hanno criticato che hanno rappresentato la Germania con una ragazza di colore ma sto razzismo velato tedeschi scusate giustamente che te devo dire che cosa c'è da dire boh ognuno poi quello che che ci vuole vedere nelle canzoni perché alla fine perché le canzoni sono delle opere d'arte aperte come i quadri perché poi si parla di questo cioè oltre il potere comunicativo che le differenzia queste due robe anche se Andy Warhol ai tempi ha cercato di unire pubblicità e arte ma quello è un altro discorso ne avevamo parlato in qualche live passata dell'anno scorso non lo so avevo un altro microfono raga ed ero tipo robotico ai tempi però è questo è fatto secondo me semplicemente del fatto di rendere come si dice cioè oltre il potere comunicativo poter separare anche le cose sì cioè un'ideologia e poi semplicemente una canzone per il gusto di farlo sì vabbè però è sempre lì alla fine cioè l'unica cosa sbagliata è qua che nella musica hai meno libertà per ora nel poterti esprimere perché se no vieni più facilmente censurato o criticato o minacciato però aspetta io oggi avevo letto anche un articolo che è finito in tendenza che è un articolo che parlava della tutela degli artisti cioè degli individui e poi nello specifico degli artisti quindi non è più una questione di copyright tra l'altro no ma non ti parlo di copyright io no no lo so io ti sto parlando di copyright cioè nel senso sto parlando del fatto che non è più la questione del copyright ma è proprio la questione di poter tutelare l'individuo sia dal punto di vista della creazione di qualcosa ma anche dal punto di vista dell'individuo stesso quindi quello che fa l'individuo è come può essere visto nella società perché tra le altre cose molti musicisti come i Maneskin tra l'altro o magari Jungblood che è uno di quelli là che mi piace per il suo stile stanno facendo emergere questa questa sorta di roba contro il maschilismo e la società fondata sul patriarcato perché più che altro loro fanno emergere il fatto che un artista può esprimersi e lo può fare in totale libertà esattamente in totale libertà quindi quindi questo è una cosa che è giusto discuterne secondo me è giusto parlarne ma soprattutto è giusto che un artista debba essere protetto da questo punto di vista se vuole poter esprimere quello che vuole tranquillamente e quindi nel 2022 questo sarà uno dei trend del 2022 di tutto l'anno che appunto verrà molto discusso anche al Parlamento europeo a quanto pare io tra l'altro concordo con quello che stanno scrivendo in chat che succede in chat che succede qua leggi tutti i messaggi no gli ultimi tre gli ultimi tre che critica la società per com'è e non fanno commercialate ci sta onesto le commercialate alla fine hanno un contenuto veramente vuoto tra l'altro tra le altre cose loro rischiano e io li supporto la società dove viviamo va eliminata non posso dire come la penso perché veramente aspetta aspetta diceva le case discografiche o non ti fanno pubblicare nulla o pubblichi e ti censurano il mondo per quanto riguarda i molti tabù ancora presenti nel mondo della musica rispetto al mondo del mercato dell'arte e per questi giovani preferiscono fare cose commerciali giusto per ricevere soldi facili ma sapete perché succede questa cosa ci stavo pensando poco fa mentre parlava James sapete perché nel mondo del mercato dell'arte c'è un minimo di libertà in più proprio un punto in più di libertà sul criticare la società rispetto che nel mondo della musica no ma che velato non per forza il messaggio deve essere diretto tu pensa alle canzoni di salmo che sono uscite le canzoni di salmo vedi che porco due però detto quello serio sotto in forma poetica cioè quello lo puoi percepire vai a percepire un porco due detto che ne so da un artista in un quadro come lo puoi percepire esattamente quella sfumatura come la puoi percepire perché poi è come la storia della cadenza sì non si parla di quadro perché il mercato dell'arte attuale non parla di quadri parla di tantissime cose le performance odierne sono e ci stiamo arrivando le performance odierne sono di tutto e di più non è solo cioè distacchiamoci dal fatto che arte dipinto non esiste più questa cosa ragazzi no no io io contestualizzo le cose per come per come le sento nel senso che il motivo sapete dove sta la minima differenza è che nel mondo della musica nel mercato della musica attualmente non c'è stato non c'è stato ai tempi come c'è stato invece nel mercato dell'arte quella forma di rivoluzione interna da parte degli artisti stessi che ha cercato di con morti con con ribellioni con di tutto e di più ci sono stati veri e propri massacri per poter dire per andare contro un sistema e nella musica ancora non è successa questa cosa sta succedendo appunto facendo un esempio i maneskin loro sono un esempio è una cosa che sta succedendo ora per fortuna ma che invece nel mercato dell'arte è successa già nel novecento quando c'è stato il distante è successo nel novecento nel contesto artistico ti dico ma è un casino citandone una nel campo cinese del mercato dell'arte cinese quanti artisti cinesi nel novecento sono morti a causa della dittatura cinese semplicemente per poter rappresentare quello che volevano e poter criticare il partito in America la stessa cosa eri un po' più libero però se tipo facevi una critica al presidente o al sistema capitalista americano ti dicevano sei un comunista sei un russo sei una spia che scrivo e ti rinchiudevano e basta perché comunque eri americano cioè gli artisti russi scappavano dalla Russia per andare appunto negli Stati Uniti e fare critiche all'Unione Sovietica che sono critiche proprio alla società non sono cose velate proprio sono cose che tu le vedi le capisci non è che hai altri interpreti no io più che altro io più che altro parlavo di roba velata nel senso che se tu disegni dipingi incidi l'opera d'arte non è che per forza devi poter rappresentare un paesaggio tu pensa all'opera d'arte come si chiama quella là che era stata fatta contro la guerra non mi viene neanche Picasso Picasso ok tu lo sai che è stata fatta contro la guerra ma perché cosa perché cosa appunto io so ah per soldi e tu lo vedi nell'opera d'arte che è stata fatta per soldi c'è scritto firma Picasso sotto ah comunque l'ho fatta per guerra non me ne frega niente del messaggio però capito si studia lo so che poi è stata fatta per soldi però il fatto è che lo vedi il messaggio poi può essere completamente diverso invece la musica è diretto perché la musica è la musica alla fine cioè c'è una persona che ti sta urlando si quello assolutamente ma quello assolutamente però l'opera d'arte non te lo sta urlando tu lo puoi vedere e tu puoi percepire quello che vuoi si quello vedi dici cazzo ma è una figata quest'opera d'arte e poi senti parlare una persona e dici eh no ma è stata fatta solo per soldi non gliene ha fregato niente a nessuno a Picasso si non gliene fregava molto della Guernica quello voleva pararsi il culo dai nazional socialisti voleva rimanere in vita e quindi si era messa a dipingere la Guernica semplicemente vi ho statato il mito della Guernica mi dispiace però dal vivo è molto bella io l'ho vista niente raga non ci andate più al frado no però quello che intendo dire è che appunto ancora nel mondo della musica ci sono troppi tabù e se no molti artisti non verrebbero criticati semplicemente per aver messo uno smalto per dirti questo è il fattore che ancora quello è la visione sempre della gente perché quella gente allora tu pensa che nel 2000 venivano censurate le canzoni dove si sentiva soltanto fuck lo so e basta censurate viene ancora fatto su youtube lo fanno ancora ma quella è youtube ma tu pensi una casa discografica tu che butti veramente il sangue proprio ti impegni al massimo e poi senti quel però è la casa discografica che te lo taglia non è una una macchina perché youtube è una macchina cioè lui dice ok ci sono delle regole da rispettare nella community io ti taglio questa parola perché non è conforme per dissociarsi ovviamente youtube ma ai tempi la casa di produzione era diversa lo so perché in una canzone lo tagliavano apposta per paura perché avevano paura le persone senza andare troppo lontano nel 2012 quando è uscito Danger Day The Make A Bigger Romance c'è una canzone che dice una parolaccia all'inizio della canzone che è Danger Day la canzone no è Nanana la canzone perdonami dice una parolaccia che non è il fuck è una parolaccia bella pesante io nel cd la parola la sento senza problemi quando mettevo la canzone su youtube sentivo vuoto e poi che cazzo è successo ma che è invece era perché youtube la taglia però la canzone originale della casa discografica o comunque degli artisti indipendenti semplicemente è quella perché è quella l'opera d'arte non è un messaggio che tu dici boh vabbè è un video io sto solo parlando no quella è l'opera d'arte quella è proprio nasce così perché è tutta intera sì è un'opera d'arte vera e propria e io comunque vorrei rispondere un attimo alla chat dato che prendendo in esempio il fattore di poco fa che uno vede la granica di Picasso e pensa alla guerra alla distruzione e tutto quando in realtà l'ha fatto solo per soldi e tu hai scritto oddio non riesco a leggere il nome senza gli occhiali perdonami des graves des graves hai detto la cosa della hai detto la cosa della banana appesa al muro con lo scotch quello non è lo stesso tizio che ha messo la cosa là dentro no quello è Manzoni quello della banana sul muro è Cattelan è diverso è Cattelan è Cattelan e la banana appesa sul muro ha un significato enorme contro una società capitalista che è basata semplicemente sul voglio tutto e lo voglio adesso perché lui fa la mostra fa la perché è stata una performance quella solo che nessuno sapeva di stare assistendo a una performance lo sapevano solo il curatore della mostra il manager di Cattelan Cattelan è l'altra persona che è entrata in scena dopo solo loro sapevano il resto erano tutti lì a fa da pubblico che praticamente lui ha messo sta banana con lo scotch sul muro l'ha messa quant'era 42 mila dollari se non sbaglio comunque una cifra altissima la gente solamente perché ha visto oddio questa è un'opera d'arte di Cattelan la voglio perché così un pezzo di Cattelan ha a casa si sono comprati la banana che compri un euro al mercato solo che era appesa al muro da Cattelan il problema è che il tempo che quello stava firmando il contratto di vendita dell'opera e l'opera era ancora sul muro è passato il tizio che era in accordo con Cattelan ha preso la banana e se l'è mangiata lì la polemica è tutto però aspetta 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 cioè sono super d'accordo ovviamente con questo anzi quello che sto per dire dà tanto valore a quello che hai detto però raga semplicemente che parlando di società capitalista di base ecco il fatto dell'importanza di un atto di un'azione però non che perché lo posso fare pure io di prendere una banana e appiccicarla però il fatto è che nessuno spenderebbe una cifra disonesta come questa che poi è stato un atto disonesto secondo me 120 mila dollari credo non mi ricordo meglio che non me lo dicevi perché sempre più disonesto pensavo 50 però va bene no ad ogni modo perché perché è successo questo a parte il messaggio della serie raga io non sto facendo arte è una banana e la sto appiccicando al muro non sto facendo arte esatto quindi non c'è niente di artistico però la gente ha dato un valore a quella banana commisurato all'artista esatto di capitalismo della serie io sono un artista io sono un creatore e lo dico stile Tarzan io ti creo qualcosa anzi te lo dico stile la scimmia pensa la scimmia fa stessa cosa perché perché io ho del valore e io mi posso permettere di prendere qualcosa buttarla e te la non lo so te la vendo a 100k semplicemente cioè non c'è neanche stato lo sforzo semplicemente ha preso e ha fatto questo e poi c'è stato dietro tutta una strategia di marketing e basta sì perché è stata sì quello sì ma c'è stata la doppia critica sia a quegli artisti che effettivamente fanno così solo per avere soldi non perché effettivamente hanno una vocazione artistica sia la critica alla gente che si comprerebbe da qualsiasi pur di avere un pezzo dell'artista citazione alla merda d'artista di Manzoni che è proprio questo lui che mette le proprie feci in una scatola come a dire voi volete tutto da me prendetevi anche il peggio di me perché ogni cosa che io produco è arte dov'è che sono esposte? le feci di Manzoni sono esposte al museo contemporaneo di Milano a vero a Milano siamo passati e tu mi hai detto ah c'è questo sì 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 no appunto raga si possono anche vedere nella scatola ovviamente no no le feci non si vedono la scatola è sigillata raga secondo me là c'è tipo l'avete presente la scena di Man in Black quando c'è quello che apre come si chiama l'armadietto e ci trova un altro ecosistema esatto probabile probabile comunque c'è a dire che Caterine non ha mai preso i soldi di quell'opera della banana quei soldi sono andati tutti in beneficenza in beneficenza come minimo se no io l'avrei etichettato come ladro era tutto fatto apposta certo è normale per forza sì sì ok per quanto riguarda la musica l'arte l'influencer il punto di vista degli influencer che fanno musica ne parli? si vede che alcuni lo fanno solo perché vogliono i soldi e lo vedo tramite tiktok c'è gente che veramente da influencer diventa cantante ampliamo ampliamo un attimo di più il discorso non te ne so parlare bene io vedo semplicemente vedo influencer che credimi no ho capito ho capito influencer che guadagnano soldi non fanno niente lo so ho capito no non stavo dicendo questo e che stai dicendo? che non hanno mai praticato musica nella loro vita e hanno l'occasione magari rispetto ad altri altra gente che magari non dico ha studiato musica però molto appassionata e magari è pure bravo con la musica e gli influencer che non sanno suonare non sanno cantare fanno musica con l'autotune e guadagnano i big money bella tron bella poccia anzi no bella tron è un'altra ecco quello appunto che volevo dire dal punto di vista dell'influencer dal punto di vista di un musicista che sappia fare il musicista e non una persona che si mette lì ehi ciao sei un influencer tieni questo microfono cantaci qualcosa non ti preoccupare ci pensiamo noi sì ok cantato registrato boom virale no io non parlo di questo io parlo tra l'altro perdonami la strategia di marketing anche dietro mettere delle cose che si conoscono non so se voi in chat conoscete la canzone quella è la costruzione dei trend tra l'altro sì la canzone quella if you build a beach che parte con la canzone di mozart proprio per che tu ti giri dici ah la conosco è mozart e poi parte invece tutta altra canzone ma io non ti parlo degli influencer io ti parlo dal punto di vista di un artista che sappia fare musica perché per me le persone che fanno gli influencer e poi si spostano dal punto di vista musicale quella non è musica non è art secondo me questo è un parere mio ovviamente è opinabile si può discutere di questo però quello che penso è assolutamente quella è tutta una costruzione di marketing e poi dietro la musica forse non c'è neanche un granché di veramente secondo me appunto si vede che una persona non si mette lì a fare musica per passione ma è soltanto per emergere perché vuole avere quei soldi X e basta questo è un altro punto di vista alla fine però infatti appunto un musicista che magari ha una fama quindi è possente dal punto di vista musicale perché lui ha fatto la sua strada musicale quindi da musicista composto è diventato qualcuno e tutto il resto però il punto questo artista come può agganciarsi all'idea di influencer perché tu pensa i musicisti adesso finiscono anche nelle pubblicità alcuni o addirittura come Fedez costruiscono delle pubblicità vere e proprie perché lui è prima di tutto un musicista sì sì aspetta mi fa venire in mente un esempio chi è il cantante della canzone quella che fa can you feel my heart Oliver Sykes The Brimmede Horizon perfetto c'è stato un periodo tra il 2019 e il 2020 quando questa canzone era tornata come trend che lui è diventato un influencer alla fine perché anche gente che non sapeva chi fossero i Brimmede Horizon Oliver Sykes e quant'altro aveva conosciuto comunque lui per un motivo si era messo a duettare tutti ma tutti i video presenti con questa canzone tutti e li valutava tra il più divertente il più ironico il più bello tutti 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 capito ma perché perché questo cantante appunto questo musicista che nasceva come musicista raga faceva death metal ai tempi con i Brimmede Horizon adesso si è spostata a fare collab e quindi musica con come si chiama Jungblood con Jungblood che oggi ascoltavo questa canzone però appunto da musicista si è spostata a influencer perché nel 2012 quando era uscito Sempiternal diciamo che aveva lanciato dei messaggi che poi in quel contesto sono rimasti eterni da quel contesto in poi sta passando l'ambulanza adoro l'ambulanza niente raga c'è qualcuno da salvare quindi il punto è che lui come musicista è rimasto eterno e ha detto aspetta un attimo perché lui tra l'altro è indipendente come musicista però si aggancia alle volte con Epitaph Records scusa ma l'ultima l'ultimo album che ha fatto non era quella con la canzone di Ludens si ok si esattamente è Mantra l'album si chiama Mantra quello mi piace però diciamo che comunque le canzoni di Brimby The Horizon sono tutte belle se le contestualizzi a un periodo si se le ascolti fuori e non hai mai conosciuto i Brimby The Horizon dici ma che è solitamente però it happens però appunto un musicista come Oliver Sykes qualsiasi musicista anche come Fedez in Italia se si spostano nel mondo dell'influenza quindi degli influencer anche Yumblod in realtà è nato prima come musicista e ora si è spostato con Machine Gun Kelly nel mondo anche degli influencer musicali in realtà appunto per mandare un messaggio secondo me la velocità non è che veloce la velocità che si può percorrere per mandare un messaggio è tipo la velocità e la luce veramente un battito di ciglia e il messaggio vola cioè se tu sei due cose insieme unite per questo che Fedez alla fine ha fatto dischi di platino e tutto il resto perché lui nasceva come musicista poi si è si è plasmato come influencer ha fatto un super successo in questi ultimi anni perché ha combattuto delle cause importanti e continua a farlo musicista influencer cosa? e continua a farlo comunque sì perché lui si è spostato dal punto di vista dell'influenza pure perché lui ha curato tutti i suoi canali la comunicazione non si ferma mai anche con Muschio Selvaggio esatto e quindi così via anzi che tra parentesi Muschio Selvaggio ce lo siamo giocati ormai per un poco perché? è positivo Fedez non può uscire di casa è vero hai ragione cavolo Luis non può andare a Milano hai ragione Luis è felice rimane a Bologna esatto Bologna top città comunque io poi ci voglio tornare ad ogni modo il fatto è questo semplicemente che un influencer può fare successo con la musica ma non può capitare secondo me viceversa più che altro cioè l'influencer che poi diventa musicista oggi nasci sì 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 nel senso che tu ci nasci prima musicista tipo no no non solo cioè che tu sei un influencer però come influencer che influenzi con la musica quindi non una musicista nel senso che hai una casa no 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 se tu nasci come influencer che fai musica o che fai qualcos'altro comunque sei un influencer stop però da influencer a spostarti nel marketing e quindi nell'industria della musica non credo che tu ci possa riuscire più che altro perché c'è tutto un processo dietro cioè Fedez lo racconta sempre che lui nasce come rapper e c'è tu c'è stata tutta una carriera dietro sì una cosa allucinante come come quello che stiamo facendo io e te sì quant'acqua è passata da sotto i ponti del Medusa Podcast no senza andartene vieni qua madonna ragazzi madonna non potete immaginare comunque raga è passata tanta acqua sotto i ponti è passato un altro microfono poverino da qui prima ero in un'altra casa prima non avevo luce prima prima tante cose e ancora comunque noi dobbiamo ottimizzare tutto dobbiamo migliorare tutto assolutamente non ci piove se vogliamo andare avanti assolutamente soprattutto cosa assolutamente ho detto ok quindi di base è così cioè uno comunque deve poter fare prima di tutto un percorso perché se ti aspetti che hai appunto due milioni di follower su TikTok e ti aspetti che tutti i tuoi due milioni di follower ti vengano a seguire da qualche altra parte in qualsiasi altro canale perché tu hai fatto una canzone magari prevalentemente qualche anno passato ti hanno conosciuto non come musicista ma come influencer e basta e magari non facevi neanche chissà quanto esempio il tizio che è diventato super virale che si mette a fare delle cose chiamale normali esatto esattamente esattamente secondo te da spostarsi da questa cosa fino alla musica no cioè o fa o fa qualcosa la gente prevalentemente non l'ha mai sentito neanche parlare se non sbaglio in un'intervista si è sentito parlare un'intervista e chi ha detto fatta da fanpage per dire no ok però il fatto è che tipo quante speranze si possono avere chi è se ne va impronunciabile il nome per me va bene bello grazie per essere stato qui con noi ti auguro la buonanotte caro ci si vede alla prossima tanto ora noi stacchiamo si anche noi stiamo per staccare infatti si si però appunto è questo il discorso musicista che può diventare influencer ci sta secondo me si perché già di base ha un cumulo di esperienze nel suo bagaglio si si influencer che può diventare musicista sì ma devi avere un team comunicativo super e devi essere bravissimo comunque devi essere bravissimo esatto però a parte essere bravissimo che alla fine le dodicanore sono relative però il punto è che tu di base devi avere una storia da raccontare che vai a raccontare nel tuo testo eh non raga mi sono svegliato mi sono messo TikTok ho fatto delle cose normali wow ovviamente ci vuole un team di copywriter che si occupano della scrittura del testo tra l'altro oltre che il team comunicativo ci vuole di tutto in questo contesto infatti secondo me in questo contesto storico costa molto di più produrre una canzone che rispetto agli anni 90 per dire gli anni del 2000 perché adesso i prezzi sono super aumentati perché ti serve non solo la casa discografica quindi la produzione la tua musica deve essere no super di più in più ti serve un team marketing comunicatori di tutto ti serve assolutamente di tutto e a prima botta soprattutto questo a prima botta la tua canzone non è che deve andare virale la devono conoscere pure nell'ultimo pianeta della galassia tipo deve andare così assolutamente no punto that's ok si 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 perfetto dunque da quanto tempo è che streamiamo due ore spaccate bella raga ci si vede ciao